loro in fabbrica utilizzavano quelle che si scrivevano solo una volta e poi basta noi non avendo a disposizione quelli che si facevano solo una volta prendevamo quelli con la finestra, erano delle 27C16 e delle 27C32 copiato il programma e riparavi il computer che ti era guastato anche questo ce l'ho nel carnet delle cose che ho fatto ok ok adesso capisci perché noi siamo rimasti ancora da l'inco e siamo rimasti ancora nell'analogico nessuno di noi del nostro gruppo si è messo a mettere le mani nelle memorie e di conseguenza siamo partiti con radio abbastanza datate di vecchio